Che camioniere ed un portiere, determinati e scatenati, hanno la classe dei fuoriclasse. Olly e Benji, sono due cicloni, questi campioni, nel loro cuore batte un pallone, sanno giocare, voglio sfondare. Olly e Benji, hanno la forza dell'umiltà e tanta volontà. Olly un grande goleador, scatta e segna tanti gol, Benji para e calci di rigore. Che campioni Olly e Benji, vinceranno il campionato, sia per Olly sia per Benji. Scoppia tipo il diavolato, che campioni Olly e Benji, questa coppia eccezionale, guiderà la nazionale. Che campioni Olly e Benji, campioni Gigi. Che campioni Olly e Benji, campioni Gigi. Olly e Benji, campioni Gigi. Olly e Benji, campioni Gigi. Olly ha segnato, Benji ha parato, e lo scudetto è cucito sul petto, ma la partita non è finita. Olly e Benji, sono due cicloni, questi campioni, nel loro cuore batte un pallone. Sanno giocare, voglio sfondare. Olly e Benji, hanno la forza dell'umiltà e tanta volontà. Olly un grande goleador, scatta e segna tanti gol, Benji para e calci di rigore. Che campioni Olly e Benji, vinceranno il campionato. Sia per Olly, sia per Benji, scoppia tipo il diavolato. Che campioni Olly e Benji, questa coppia eccezionale, guiderà la nazionale. Che campioni Olly e Benji, questa coppia eccezionale, guiderà la nazionale. Che campioni Olly e Benji, campioni Gigi. Che campioni Olly e Benji. Grazie a tutti